Roma era ambiziosa, voleva essere una grande città, progredire e svilupparsi fino a raggiungere un livello di eccezione e ci riuscì a tal punto che divenne un modello di ispirazione per la fondazione di tutte le altre città dell'impero. Il progresso e il benessere di Roma furono più efficaci delle vittorie sui campi di battaglia. Ma senza dubbio furono le armi a garantire il processo di romanizzazione. Grazie per la visione!